Nella seconda parte del tempo dell'opposizione della prima sessione di luglio, il Consiglio Provinciale ha esaminato e respinto due disegni di legge, uno del Gruppo Verde per l'abolizione della registrazione del profilo genetico dei cani e uno della Fry Fraction per la modifica delle disposizioni sulla caccia alla volpe. Respinte le mozioni no alla tassa di soggiorno all'IDM del Tim K, quelle della City Roller Freiheit per vincolare i criteri di accesso al contributo al canone di locazione, alla conoscenza delle lingue e della cultura della provincia e per una provincia smilitarizzata e quelle di J.V.A. Wierth Anderland per il rimborso delle sanzioni Covid. Approvata invece la proposta della City Roller Freiheit, cofirmata da Für. Suttirol mit Widman, Fryer Fraction, Tim K e J.V.A. Wierth Anderland di creare i presupposti tecnici affinché le centrali operative di soccorso di Innsbruck e Bolzano possano comunicare tra di loro via radio. Nel tempo della maggioranza è stato trattato il disegno di legge Omnibus che introduce modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, agricoltura, protezione antincendio e civile, caccia e pesca, tutela dell'ambiente e del paesaggio, energia, tutela delle acque e utilizzazione delle acque pubbliche, igiene dei prodotti alimentari, patrimonio e finanze, attività economiche, lavori pubblici, alpinismo, turismo, espropriazioni per pubblica utilità, edilizia abitativa agevolata, igiene e sanità, assistenza e beneficenza, trasporti. Discussi in particolare gli articoli riguardanti la profilazione genetica dei cani. Le macellazioni presso i masi e l'edilizia abitativa. I lavori proseguono.